Che cos'è il Nordic Walking? Si pratica all'aria aperta, fa bene al cuore e dalla circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica gli addominali. A prima vista sembrerebbe una cura miracolosa, è invece il Nordic Walking un nuovo modo di praticare sport che si sta affermando in tutto il mondo. Sport per tutti e per tutto l'anno che offre un modo facile, poco costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo. Con una corretta tecnica si possono facilmente ottenere enormi benefici. Fa perdere peso, si stima che faccia bruciare circa il 45% in più calorie di una normale passeggiata, cioè 400 calorie all'ora rispetto alle 240-280 del semplice camminare. È quindi un movimento veramente completo, si muove fino al 90% della nostra muscolatura, è allenamento per tutto il corpo, migliora la flessibilità e la mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale. Migliora la postura e ottimizza il metabolismo dei dischi intervertebrali, prevenendo, riducendo o eliminando i dolori alla schiena. Migliora sicuramente la capacità aerobica. Grazie all'uso dei bastoncini si riducono le sollecitazioni sulle articolazioni, in particolare su ginocchia, caviglie e sulla schiena. È per questo particolarmente adatto a persone in sovrappeso o con problemi alle articolazioni. È un ottimo allenamento cardiocircolatorio e riduce i fattori di stress e depressione. Su questo punto non ci sono dubbi e ogni passeggiata è un'autentica fonte di relax e coinvolgente allegria. Panorami stupendi oggi. La giornata di sole. L'ombra del roccolo. La natura in fiore. La vegetazione. La varietà di percorsi. La mia giornata di ferie. Tutto questo è estrapolato da una bacheca esplicativa posizionata lungo la statale Cadorna che porta in cima Grappa e curata dalla Nordic Walking Monte Grappa.